Gheneminga, 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 non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessun tre volte, non ce n'è per nessuno, questa partita dice che l'Inter è la squadra più forte del campionato, ma senza nessun tipo di problema, altra categoria, manifesta superiorità a casa, siete già lì a casa, a casa, tre pere a casa, tutti qua, e i guffi, guffacci maledetti, stasera Malox, tutti i guffi per piacere Malox, vi fanno lo sconto perché a furia di guffarci, ormai quanti Malox prendete, ma fate sconto quantità, non ce n'è per nessuno, questo dice questa partita, non ce n'è per un cazzo di nessuno, siamo troppo forti, punto, mentalmente, fisicamente, come squadra, come rosa, mister, bello il mio mister, bello il mio mister, e tutti gli incompetenti che ti rompevano i coglioni, incompetenti, siete incompetenti, incompetenti, tristoni incompetenti, bello il mio mister, bello, mamma mia che partita, che partita, partita soffertissima all'inizio, 20 minuti dove, onestamente, ero lì con il sale grosso che lo tiravo dietro, che mi toccava i gioielli di famiglia, però, a Cervi, a Cervi, si è praticamente incollato all'uomo mascherato, e l'uomo mascherato, si è fatto un tiro pericoloso, cioè, un tiro pericoloso, no, quell'azione là, che poi volevano rigore per il tocchettino minimo, adesso romperanno i coglioni, e tutto quanto, però per il resto, devi chiedere il permesso a Cervi per uscire allo spogliatoio, we, quando è finita la doccia, chiedi il permesso, perché se non ti dà il permesso a Cervi, uscire alla doccia, tu resti in doccia, ti capi? Ma quando fai la doccia, togli la maschera, così per un amico, chiedevo, non ce n'è per nessuno, ragazzi, cioè, a parte di scherzi, ma qua si scherza fino a un certo punto, con quest'inter qua non si scherza, non si scherza, non si scherza, non si scherza perché mentalmente siamo veramente, ormai arrivati a un punto molto, molto, molto importante, questi sono tre punti che pesano come un maccino, perché, vi spiego, quando esce il calendario d'estate, guardi un attimino dove sono le trasferte più difficili, le trasferte più difficili sono contro le strisce pedonali, contro il Napoli e contro l'Atalanta, strisce pedonali, secondo me l'abbiamo buttata via, non ci abbiamo provato, potevamo far meglio, però bene così, va bene in stessa, contro l'Atalanta, vittoria, e qua, asfaltati, e adesso, questa mentalità qua, deve continuare con le piccole squadre, e non ce n'è per nessuno, basta, molto semplice, è inutile stare lì a chiacchierare, cioè, con la giusta mentalità, non c'è trippa per gatti, non ce n'è, cioè, che ne minga, che ne minga, ve l'ho scritto sul titolo, che ne minga, questo è il titolo, ma è tutto il video che io vi dico che ne minga, perché? Perché non mi aspettavo di vedere una partita del genere, finita 0-3, conveniamo tutti insieme, tutti quanti in coro, che potevamo finire anche più rotondamente, cioè, ho detto tutto, ho spiegato la partita, poi menzogniamo Sommer, Sommer, te veri bene, bello, ti do un bacino, un bacino, bello Sommer, mamma mia, paratone inizio partito, paratona sulla sceneggiata lì, tutta loro, che chiedevano rigore, perché poi quell'altro tira e lui fa un paratone incredibile, al quale è andato poco risalto, per il semplice fatto che si stavano lamentando, e chiaramente c'era la televisione, andava dietro la mia mente, è più agnistei, e non l'ha fatto rivedere bene, ma ha fatto un intervento veramente incredibile, sempre, sempre pronto, sempre presente, poi è inutile parlare dei singoli quando fai queste partite qua, quando fai queste partite qua è inutile parlare dei singoli, molto contento per il gol di Ciala, perché viene da fuori aria, perché Ciala comunque se lo merita, contento per il gol di Barella, perché da tanto che cercava il gol che non veniva, è venuto forse nella serata più importante degli ultimi tempi, da inizio della stagione qua, perché per quanto riguarda il campionato, ripeto, questa è forse la trasferta più importante, perché? Perché adesso i giornali domani scriveranno che Napoli in realtà in casa fa meno paura che in trasferta, scriveranno che comunque ha raccolto pochissimi punti, non scrivono che comunque l'effetto Mazzarri, soprattutto in questa partita si è visto all'inizio, ma poi noi siamo troppo forti, ok? Però insomma è un altro Napoli con Mazzarri rispetto a quando c'era Garcia, quindi non scherziamo andare a vincere là così, è da grandissima squadra, è una squadra che merita di stare dov'è e quindi ragazzi tutti uniti, tutti uniti, tutti uniti, perché io ve l'ho sempre detto, questa è una grande squadra che ci fa togliere soddisfazioni, cioè praticamente noi ci stiamo prendendo soddisfazioni su soddisfazioni, poi io spero che la più bella soddisfazione arrivi a fine campionato, ma ci arrivo solamente con l'unità e questa mentalità, quindi avanti Inter, avanti così, benissimo, benissimo, cioè molto bene tutti, contento per il gol di Turam, contento per Augusto che è l'imperatore, il piccolo imperatore, e niente, come terzo di sinistra non è che ci può stare, ci sta la grande, ha fatto un partitone, oi, ha fatto un partitone, è che niente fa, ha fatto una partita di livello, quindi grandissimo acquisto, è un pieronacchione a quelli che dicevano all'interno una programmazione, fa il mercato a caso, abbiamo finito i soldi, ma andate a cagare tutti, siamo troppo forti, cioè l'euforia me la danno i ragazzi, l'euforia me la dà questa mentalità qua, e l'euforia me la dà dare treppere a casa di quelli lì, a casa di quelli lì che non ve lo dico neanche cosa ne penso di loro, perché, cioè, guardate la mia faccia, cioè, già avete capito cosa ne penso di quelli lì, quindi una goduria veramente immensa, anche perché quello per noi è un campo ostico, dove non vinciamo mai, quindi è da anni che non vincevamo, e comunque è sempre stata una partita dove portare a casa anche un punticino andava più che bene, guardate un attimino il tabellino finale, e poteva essere più rotondo, quindi bene, 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 bene veramente tutti, mi dispiace che downfries sia fatto male, downfries comunque, e poi lo valuteranno in settimana, però entra a quadrado e tac, e gli mette il cross per il 3-0 di Turam, cosa vi devo dire? Cioè, vi dico che potevamo addirittura fare meglio, cioè, guardate un attimino voi, oggi però sono contento parlando dei singoli, e vi parlo praticamente solo di lui, della prestazione di Sommer, perché Sommer oggi ha fatto la partita più bella da quando è all'Inter, forse nella partita più importante dall'inizio del campionato oggi, perché oggi, dopo il pareggio di Torino, era fondamentale riscavalcare gli scappati di casa lì, le strisce pedonali, ma a livello psicologico anche per loro, cioè, vedersi scavalcare da una squadra che va a Napoli e fa tre pere, non deve essere il massimo della vita, e io godo come un riccio, bella lì ragazzi, bella lì cazzo, bella lì, Napoli 0, Inter 3, e io vi saluto, di Milano è il simbolo regale, il biscione dell'internazionale, non ce n'è, non ce n'è, che ne minga, che ne minga.